Ducati si sta dedicando al mercato delle moto puramente adventure con la nuova Scrambler ispirata alla Concept Desert X, presentata per la prima volta nel 2019, ma con componenti molto diversi sotto la pelle. Un'immagine teaser iniziale dell'azienda conferma che la Desert X condivide i doppi fari circolari full LED e uno schermo quasi verticale, dando una visione moderna del classico stile da corsa degli anni 80 e 90. Tuttavia, dove la Concept Bike originale era basata sulla Scrambler, completa di bicilindrico a V, raffreddato ad aria e telaio in acciaio, la nuova moto di produzione è costruita attorno al motore testa stretta raffreddata al liquido da 937 cc e si chiamerà semplicemente Ducati Desert X. Questo motore è quello utilizzato anche sulla Supersport, Monster, Hypermotard 950 e Multistrada 950, con una potenza compresa tra i 110 e 114 cavalli a seconda del modello. Non è ancora chiaro se Ducati riutilizzerà un telaio esistente o se ne svilupperà uno nuovo per il Desert X, ma il telaio in parte in lega e acciaio della Multistrada 950 o quello interamente in acciaio dell'Hypermotard si adatterebbero bene al motore e potenzialmente anche allo stile fuoristrada della Desert X. Ciò che è chiaro è che la moto è un fuoristrada molto più serio di qualsiasi altra nella gamma attuale dell'azienda. Ducati ha confermato di utilizzare una ruota anteriore da 21 pollici e 18 al posteriore. La stessa combinazione è anche offerta da moto come l'Africa Twin di Honda, che è tra le sue rivali più vicine. Ducati svelerà il Desert X completamente il 9 dicembre, ma l'azienda sta pianificando una lunga campagna teaser fino a quella data, con video che appariranno ogni due settimane a partire dal 30 settembre. Non tutti i video però saranno puramente dedicati a questa moto, infatti alcuni dei titoli suggeriscono modelli che possiamo aspettarci, come la Street Fighter V2, di cui ne abbiamo parlato proprio pochi giorni fa. Voi cosa ne pensate di questo nuovo fuoristrada di Borgo Panigale? Mettetelo qui giù nei commenti e con questo ragazzi vi saluto. Ti ricordo che se sei nuovo e vedere più video di questo genere qua, iscriviti a questo canale, metti un piaccio a questo video se ti è piaciuto e seguimi anche su Instagram magm.moto. Alla prossima, ciao a bella! Alla prossima, ciao a tutti!